Ancora un colpo di scena nella vicenda di Freddy Pacini, la gommista che ha sparato al ladro che si era introdotto all'interno della sua officina di Monte San Savino, uccidendolo. Uno dei proiettili esplosi potrebbe infatti essere stato deviato. Una nuova ipotesi emersa nel corso del sopralluogo nella ditta effettuato dai legali dell'uomo indagato per eccesso di legittima difesa. Sono stati infatti notati dai graffi sul pavimento, è stata avvisata la procura che ha mandato sul posto i carabinieri, è stata così sigillata la traccia. I segni però potrebbero essere dovuti anche alla quotidiana attività di montaggio di pneumatici. Pacini e sui legali avevano deciso di tornare nel capannone a seguito dell'autopsia svolta sul cadavere del giovane Moldavo. Secondo i primi esiti dell'esame autoptico, il proiettile letale che ha leso l'arteria femorale causando l'emorragia interna al 29enne potrebbe aver seguito una traghiettoria diversa dagli altri quattro colpi esplosi entrando dal basso all'altezza della coscia. Freddi Pacini nel primo verbale non utilizzabile nell'inchiesta aveva dichiarato di aver sparato dalla finestra del suo palco dove dormiva ormai da quattro anni esasperato dai numerosi furti dunque dall'alto verso il basso. La nuova traccia sul pavimento, secondo i legali dell'imprenditore, quindi potrebbe essere compatibile con un rimbalzo. Prosegue infine la caccia dei carabinieri al complice ancora in fuga. I militari intanto sono riusciti a risalire all'esatta identità del moldavo ucciso. Si chiamava Vitali Mirzea. L'uomo aveva numerosi precedenti, dal furto aggravato al furto in abitazione sino alla ricettazione. La procura di Milano aveva anche messo un ordine di carcerazione per catturare il 29enne.